Ma ciao, chi c'è qui? E te lo stavo preparando a mangiare? Chi c'è? Acqua Tutti qua? Adesso vengono lì da te Chi c'è qui? Mamma quanta fame Ma quanta fame Ma buongiorno Acqua Acqua sta cercando di capire come arrivare a mangiare Dai Salta su Però non litigate Dai Non c'è paura Ah sì, si fa valere adesso il cipiciu allora Salta su Di solito sei tu che gli rompi le scatolozze Ma anche Gio Gio guarda da dentro Ma che bravo Dai venite qua voi Dai Ciao cipi Ciao Amore Ciao Ma bevi tanta fame? Oh mamma mia Sembra che non gli diamo da mangiare Da giorni Ah è per quello 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 Ah è per quello